Uno mi ha scritto se ti prendo ti sparo in bocca. Alta tensione, l'epidemia ha risvegliato odi, rancori, violenza, fake news e lo stesso presidente della regione Veneto è stato vittima di minacce. Abbiamo fatto come solito la denuncia e questo è stato identificato a un militare, me ne racconto una delle tante, che ha famiglia e io non è che mi diverto andare avanti, potevo andare avanti, no, uno così lo rovini, sì o no? Io ho chiesto di fare volontariato e l'altro giorno mi è arrivata la carta che ha compositato le sue ore di volontariato presso la Croce Rosso. Minacce, fake news, un fenomeno che non si può sottovalutare e le fazioni che si stanno creando alimentano un clima difficile, a volte ostile, il pericolo è che si creino degli strappi nel tessuto sociale. Io vi ho sempre detto che c'è un rischio concreto e sarebbe il peggiore che il Covid, oltre a lasciarci lo strascico delle morti, della malattia, della tragedia, ci lascia uno strascico parallelo che sia quello di farci uscire con una società spaccata a metà. Ed è un brutto clima. Io penso che il sale della democrazia sia la libertà di parole e di pensiero, però lo devi fare rispettando le persone. Grazie. 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 Grazie.